Buonasera ragazzi, oggi parleremo di bullismo, perché oggi è la giornata mondiale del contro il bullismo. Il bullismo si indica una forma di comportamento sociale tipo violente e intenzionale tanto di natura fisica che psicologica, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone percepite come più deboli dal soggetto che per il petalato di in questione. In breve, perché possa correttamente parlarsi di bullismo, devono sussistere tre precisi requisiti. Uno, il comportamento deve essere intenzionale. Due, il comportamento deve persistere nel tempo. Tre, deve esserci una simmetria nella relazione. Il fenomeno del bullismo è particolare rilevante al ruolo degli spettatori, indicati nella lettura e letteratura anglofona come temi di B-standards. Idealmente possiamo immaginare composto da gregari che appoggiano il bullo e pongono in essere sul suo mandato gli atti di bullismo. Spettatori che a seconda dei casi possono assistere all'incidenza oppure ridere e incitare i bulli. Il bullismo dunque non riguarda soltanto l'interazione tra i due soggetti, ma deve essere piuttosto considerato come un fenomeno di gruppo e potrà essere contestato soltanto dopo aver compreso e soprattutto accettato che si tratta di una manifestazione culturale, espressione di una società in cui di fatto sono nominanti i valori della propraffazione dell'albitro e del più forte, sul più debole, in cui i modelli vincenti spesso veicolati, anche attraverso i messi medi, sono quelli della raguanza e dono rispetto degli altri. Il termine bullismo viene spesso indicato utilizzato per riferirsi ai fenomeni di violenza tipici negli ambienti scolastici, ma può verificarsi anche in altri contesti sociali riservati ai più giovani. Lo stesso comportamento o comportamento simili in altri contesti sono indicati come in termini come bombing in ambito lavorativo o l'onismo nell'ambito delle forze armate. Con l'avvento degli anni 2000 e con l'avvento di internet, si è andato dedicando un altro fenomeno legato al bullismo, il cyberbullismo. Sebbene a primo sguardo possono apparire simili, di estrema importanza distingue tra il bullismo e tutti quei riti di passaggio che contraddistinguono in determinati ambienti, probabilmente l'isperazione militare. Questi ultimi, infatti, pur prevedendo il superamento di prove, spesso guardi che imbarazzanti per i novizi, sono comunque generalmente privi di quella crudeltà gratuita di quella volontà di umiliare i prossimi tipici del bullismo. Quindi, ragazzi, chi si accita il bullismo nei confronti dei più deboli è solo un vigliacco perché si sente forte perché se la prende con i più deboli, con gente che non reagisce. Io ti dico sempre che la colpa è anche della gente che assiste impotente e non guarda e tace, quelli sono ancora peggio perché se tu sei testimone di atto di bullismo, dovresti intervenire, non dovresti incidare il bull a fare quello che fa. Invece è molto importante, molte persone con il loro silenzio, addirittura ridendo, fanno sì che i bulli, ci sono parecchi sei esempi di bullismo nelle scuole, dove il bullismo a livello di internet, ci sono gente che tramite una tastiera insulta, ci ne sono parecchi. Ragazzi, la violenza è sbagliata perché sfruttate il tempo che avete per amare il prossimo, per fare amicizia con gli altri, non insultare le cose, perché la vita è già difficile, poi mettete a insultare, non sapete i danni psicologici che fate alle persone in quel modo. Perché no, per una persona che subisce tutto questo, ha dei tanti psicologici non indifferenti. Mi raccomando, passate il tempo per amare, a fare amicizia, a poter bene, che è una cosa migliore, non a odiare il prossimo e a rompergli i coglioni. Tutto questo, buona vita, buona giornata, buona domenica.